Si è spento all'età di 90 anni l'imprenditore della grappa Benito Nonnino che insieme alla moglie Giannola e poi alle figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta ha saputo far diventare la piccola azienda di famiglia un marchionoto in tutto il mondo. È morto nella sua casa azienda Percoto, frazione di Pavia di Udine, territorio dove era nato il 6 febbraio 1934. Come amava ricordare con orgoglio era figlio di Toni, a sua volta figlio di Vigli, figlio di Orazio, fabbricante di Sniapa. Dal padre Antonio, terza generazione della famiglia di distillatori, aveva appreso l'arte e l'amore per il mestiere. Con la sua Giannola, nel rispetto della tradizione, Benito rivoluzionò il sistema di produrre e presentare la grappa. Nel dicembre 1973 la coppia creò la grappa di singolo vitigno, il monovitigno nonnino, distillando separatamente le vinacce dell'uva piccolite, solo una delle numerose svolte caratterizzanti l'attività di famiglia, intensa anche sul fronte culturale. A metà degli anni 70 risale l'istituzione del premio nonnino per la valorizzazione della civiltà contadina, un riconoscimento a cui la famiglia ha saputo dare, come la propria grappa, un respiro internazionale. Una colonna Benito, anche per i suoi nipoti, con il suo entusiasmo, le sue competenze, il suo amore per il mestiere, più volte fonte di un profondo grazie anche da parte della moglie Giannola. Benito, grazie di loro per tutto quello che ci hai capito, grazie. 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 Grazie.